Ecco! Finalmente allo scoperto! Kenyaman! Avete visto la nuova fidanzata? Altro che Leotta! Kenyaman! Felicemente fidanzato! Con una bellissima donna! Molto più bella della fantastica Leotta! Ecco tutti i dettagli! Sulla loro relazione! Chi è lei? E da quanto hanno una storia? Ne avevamo già parlato in un precedente video! Lo trovi in descrizione! Negli ultimi anni, si è sentito spesso parlare di lui, giovane attore turco, che ha letteralmente rapito il cuore di tutti i suoi fan. Grazie ai ruoli interpretati, ha ottenuto un successo inaspettato, diventando importante, perfino in Italia, dove oggi lavora e vive. Sono molte le passioni che ha Ken, una tra queste è la cura del proprio corpo. Inoltre, ama profondamente mangiare bene, quindi ama, il cibo italiano. Nel corso del tempo, avevamo visto nascere storie, era nata una storia, con la conduttrice televisiva, di Letta Leotta, con la quale ha vissuto momenti condivisi sui social. Nonostante gli affetti, la loro storia d'amore, non durò molto. Dopo alcuni mesi infatti, le cose iniziarono a peggiorare, fino a segnare poi la loro separazione definitiva. Fino ad oggi il ragazzo, per via della rottura, con la Leotta, ha tenuto nascosto ogni suo flirt, così da non destare alcun sospetto. Lui oggi, è nuovamente in compagnia di una persona, che lo rende felice. Ha deciso però di non correre, e di godersi gli attimi, lontani dai riflettori. Ricordati di lasciare un mi piace, e cliccare sulla campanellina, per iscriverti al canale, serie tv news gossip. Kenny Aman, felicemente fidanzato, con una bellissima donna, ecco chi è lei. Siamo fin troppo abituati di vedere, ogni singolo dettaglio, delle vite private dei VIP, che ormai, non riusciamo a capacitarci, del fatto che alcune cose, è bene mantenerle private. In molti sono a conoscenza, di questa sua relazione con questa ragazza, nonostante questo però. Non comprendono il reale motivo, della lontananza dei riflettori. Avendo vissuto una quotidianità con le otta, condividendo tutto, e mostrando il loro amore ovunque, ovviamente i fan poi, si sono intromessi nella loro rottura, chiedendo spiegazioni, e criticando pesantemente entrambi. Lui infatti, momentaneamente preferisce mantenere, un discreto livello di privacy, così da potersi vivere, senza alcuna pressione questa nuova storia. Da lui però, ci è concessa qualche piccola informazione. Lei si chiama, Maria Giovanna Adamo e, a differenza della Leotta, non ama particolarmente apparire sui social. Anzi è una ragazza molto riservata. Lei, secondo quanto si vocifera, ha all'incirca 25 anni, ed è originaria di Crotone, Calabria. La ragazza, negli anni ha ottenuto abbastanza successo, ottenendo il secondo posto alla, World Top Model, Selezione Roma, 2021. Hanno iniziato a frequentarsi, qualche mese fa, ed attualmente preferiscono rimanere, lontano da occhi indiscreti. Ricordati, di lasciare un mi piace, e cliccare sulla campanellina, per iscriverti al canale, Serie TV News Gossip. A presto!